Ciao a tutti ragazzi, sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati sul mio canale. Oggi voglio presentarvi Mysterium, un gioco a cura della Libellud, che tra l'altro ha vinto anche il premio miglior gioco, miglior board game a Cannes del 2016 e portato in Italia, quindi localizzato e tradotto dall'Asmo d'Italia, che noi ancora una volta ringraziamo. Grazie ragazzi, davvero, è sempre un onore lavorare con voi e grazie per avercene fornito una copia per la recensione. Mysterium è un gioco dai 10 anni in su, da 2 a 7 giocatori per una durata massima che va dai 40 minuti ai 60, quindi diciamo un'oretta di gioco. È un gioco molto semplice, è un gioco veramente interessante e divertente. Il gioco ha un'ambientazione particolare, un pochino gotica, ambientato in questo castello dove c'è stato un omicidio e durante la notte di Samain, la notte di Halloween, dove il reame degli spiriti si unisce più in contatto diretto con quello degli umani, quindi mortali, vengono chiamati The Medium da vari paesi del mondo e questi medium sono chiamati per risolvere il caso perché c'è questo spirito inquieto che gira a leggia per questa casa, questo antico castello e bisogna capire chi è stato a ucciderlo, in che stanza l'ha ucciso e quale arma ha utilizzato. Tra l'altro c'è anche la gatta che ve la presento, non so se si vede. Ciao Morgana! È un gioco molto interessante perché, prima di tutto, è un gioco di carte cooperativo, quindi cooperativo al massimo, dove un gruppo di giocatori fanno i medium e uno fa lo spirito che deve guidarli. Nel console avventura, poi lo vedrete nella parte delle regole, ma è un gioco molto divertente perché, secondo me, unisce le meccaniche di Cluedo a quelle di Dixit, che sono, secondo me, molto interessanti. Se uniti insieme, viene un gioco veramente divertente, dove bisogna svelare il mistero guardando delle carte con, sopra, dei punti, comunque delle informazioni da risolvere, da collegare alle carte indizio. Come detto, il gioco è veramente molto interessante, è un gioco molto facile, è un gioco semplice, quindi di quelli che adoro, un manuale di una decina di pagine letto una volta, pronti si gioca, anzi, mentre lo leggi si gioca, perché veramente è semplicissimo, ed è un gioco che, secondo me, è perfetto per tutti i tipi di serata, gruppi, insomma, per chi vuol passare una bella serata dopo una scena fra amici, anche questo è veramente perfetto. Passiamo all'unboxing. Iniziamo con l'unboxing, una scatola decisamente contenuta come dimensioni, e il disegno è molto bellino, perché ricorda un po', se vogliamo, o romaggio di Bram Stoker, Dracula, o comunque qualche film solito gotico, insomma, si vede arrivare alla macchinina, nei primi del Novecento, e in fondo c'è, in cima alla collina, la classica casa in stile castello gotico, casa vittoriana di quel periodo lì, ed è veramente bello. Anche il colore è tutto, un po' la nebbia ricordano un po' l'ambientazione che appunto si va a descrivere in Mysterium. Apriamo. All'interno della scatola, il regolamento, una manciata di pagine per davvero, molto semplice, e tra l'altro tradotto molto bene, quindi ancora una volta complimenti all'Asmodi. Un piccolo volantino, che vi ricorda che nell'App Store, e anche su Steam, c'è la versione digitale di Mysterium, perché è già stata passata in videogioco, tra l'altro videogioco cooperativo, che potete fare insieme agli amici, quindi dateci un'occhiata, perché in vera 4-5 euro, una cosa del genere, ed è molto interessante. Orologio da costruire, che è l'orologio che scandisce le ore, quindi i turni di gioco, Corbi, che servono praticamente al fantasma per cambiare la mano di carte che ha preso in quel momento, e base dell'orologio. Segnalini chiaroveggenza, segnalini sospettato, più segnalini che servono al fantasma per tenere conto del turno appena effettuato dei vari player colorati. Sempre altri token, più basi, dove mettere le pedine, che vi faccio vedere, più l'indicatore di chiaroveggenza. Questo è lo schermo del master, viene un po' da pensare, cioè è normale, Dungeons & Dragons, è lo schermo del fantasma, che poi viene ovviamente aperto, per nascondere tutte quante le azioni del fantasma. Pedine colorate per ciascun giocatore, per ciascun medium, per tenere conto appunto degli spostamenti sugli step per svelare chi è stato il colpevole dell'omicidio. Clessidra, per tenere il tempo appunto per svolgere le indagini, questa in comune fra tutti gli investigatori, i medium. Carte, indizio, oggetti, quindi gli oggetti che possono essere utilizzati per risolvere la storia, perché vi ricordo sempre, c'è un colpevole, una stanza e un oggetto. Questi sono gli oggetti. Carte indizio, sempre disospettati, ma utilizzate dal fantasma. Tutte le carte, lo vedete, con il retro di questo colore qui, sono usate dal giocatore che va a interpretare il fantasma. Carte visione, che sono quelle che il fantasma invia ai giocatori per risolvere appunto i casi. E piccoli raccoglitori dei giocatori, dove dentro dovranno mettere sempre il loro principale indagato, la stanza dove è avvenuto l'omicidio, e l'arma del delito, quindi potrete mettere direttamente qua dentro, e conservarle fino a che non arriverà il momento finale di svelare il colpevole. Il gioco si sviluppa come una specie di Cluedo. Secondo me questo gioco è la giusta fusione fra Cluedo e Dixit, ed è un gioco dove il fantasma, che gioca ovviamente, è un player che gioca a favore dei giocatori e mai contro, perché qui è un gioco in cooperativa per quanto siamo divisi in due fazioni separate, da una parte il fantasma e dall'altra parte medium, però il fantasma è lì per essere liberato, ok? Per trovare quindi l'eterno riposo e dovrà dare informazioni ai medium affinché risolvano il caso. Questo è un gioco dove o tutti si vince, medium più fantasma, o tutti si perde, quindi ci dovrà essere una certa collaborazione. All'inizio del turno, la cosa importante è che ogni giocatore scelga un personaggio, quindi una cartellina con un colore, qui si è scelto, giallo, blu e bianco, vedete? Giallo, blu e bianco e siano solo step 1, perché gli step saranno riconoscere l'indagato, il sospettato, riconoscere la stanza dell'omicidio e riconoscere l'arma del delitto più lo step finale. Abbiamo l'orologio che a passare di ogni turno scalerà di un'ora dalle 1 di notte fino alle 7 del mattino in cui finirà il tempo per risolvere il caso e liberare lo spirito dannato e poi abbiamo ovviamente la clessidra che scandirà il tempo appunto in cui i giocatori avranno la disposizione per riuscire a capire dove è avvenuto il delitto chi è stato e l'arma del delitto. All'inizio del turno prima della partita verranno nella fase di preparazione del setup verranno pescati personaggi come detto istanze e armi del delitto quindi facciamo caso in una partita a 3 andranno pescate casualmente da un mazzo mescolato 6 personaggi noi ne peschiamo 6 riprendo dalla cima tanto comunque il mazzo è stato mescolato quelli che avanzano li possiamo tranquillamente rimuovere dal tavolo di gioco e disponiamo tutti quanti i sospettati qui davanti il gioco richiede abbastanza spazio ragazzi perché come vedete ci vorranno almeno due righe per metterli tutti quanti però a quel punto avrete tutta quanta la lista dei sospettati e abbasserete quell'altra per fare entrare stanze ed armi a questo punto i giocatori dovranno attendere ve lo faccio vedere nello step successivo come funziona dovranno attendere che il fantasma mandi loro delle visioni e il mazzo visioni del fantasma è questo qua giù questo è un mazzo visioni generale generico non è diviso per stanza arma o sospettato è un mazzo generico da cui il fantasma potrà andare a pescare sette carte e saranno le carte visione che dovrà passare agli investigatori per appunto capire chi potrebbe essere un sospettato è bellino questo gioco perché ad esempio pescando una carta a caso di una visione vi faccio un esempio come vedete nel mazzo di questa visione c'è tipo l'acqua c'è tipo un sommozzatore delle statue antiche sembrano un po' di anubi e una manovella qui dorata una specie di valvola e del legno sotto quindi il fantasma sapendo che magari e ve lo faccio vedere dopo come fa a saperlo sapendo che magari al giocatore blu il suo bersaglio che deve andare a puntare è l'orologiaia questa signora qua giù in fondo il fantasma potrebbe dire ok io uso questa visione con una manovella gialla per indirizzare il giocatore blu verso questa carta perché ce ne sono a giro di ingranaggi e tutto quanto potrebbe sembrare l'ingranaggio di un orologio potrei indirizzarlo qui potrebbe confonderlo perché magari andrà a pensare che potrebbe essere uno degli altri personaggi comunque il fantasma potrà dare un numero di visioni che vuole quindi da 1 a 7 visioni per ciascun giocatore però ragazzi ricordatevi che se è data una visione quello si deve focalizzare soltanto su quella se cercate di dare tante aiute a un giocatore potreste confonderlo invece che aiutarlo perché mi dai 4 carte visione e quindi le devo vedere tutte e 4 non so più dove andare a pescare comunque al momento che tutti quanti i giocatori avranno le loro carte visione in mano quindi da visualizzare ovviamente segrete le guarderanno in mano e a quel punto decideranno qual è il loro bersaglio e prenderanno le pedine e le sposteranno sopra i bersagli quando tutti quanti avranno visto le carte visione saranno state date partirà ovviamente un tempo questo tempo va per ciascun giocatore quindi se per prima ha mosso il blu il giallo e il bianco rimarranno al punto di partenza dovremo attendere che il blu abbia fatto la sua scelta ed abbia messo la sua pedina in un punto vi ricordo che la può spostare come vuole però quando sarà scritto il tempo la dovrà lasciare lì poi si aspetterà il reset della clessidra si rigirerà si farà fare al secondo giocatore e così via per tutti gli altri fino a che tutti i giocatori non avranno un bersaglio a questo punto c'è la fase di rivelazione il fantasma dietro allo schermo dirà ai giocatori se hanno indovinato il loro bersaglio vedendo appunto le visioni che lui ha dato ai giocatori e se avranno indovinato il bersaglio potranno direttamente procedere allo step successivo facciamo conto che il blu ha indovinato quindi andrà allo step successivo leverà questa carta che non sarà più in gioco quindi la carta di questo sospettato verrà tolta e la metterà all'interno del suo raccoglitore qui della sua scheda della sua cartellina per ricordarsi che lui ha già trovato un bersaglio facciamo conto che anche il giallo l'ha trovato quindi il giallo va avanti di uno step leva la carta appunto che ha indovinato e anche il giallo la mette qui dentro nella sua cartellina il giocatore bianco invece ha sbagliato perché il suo bersaglio non era questa signora qui ma era magari il cacciatore quindi lui non toglierà niente di tutto quello che è qui sopra prenderà invece tornerà allo step precedente nello step successivo si rifà la stessa cosa si danno le carte visione si pescano altre 6 carte che sono 6 personaggi 6 stanze e 6 armi si ripescano 6 stanze si rimettono qui davanti e l'operazione procede ah ovviamente l'orario va mandato avanti di un'ora ogni volta che finisce il turno di tutti e tre i giocatori il timer va mandato avanti di un'ora si ripassa con le stanze si fa le stesse cose con l'unica differenza che il giocatore bianco è rimasto indietro quindi il giocatore bianco non ha ancora capito chi potrebbe essere uno dei sospettati qui all'interno e quindi mentre il giallo e il blu vanno avanti adesso per la stanza e successivamente per la parte finale dell'arma il bianco invece ancora lo step di partenza e quindi il fantasma si dovrà adoperare ancora di più per far capire al bianco quali sono i sospettati e farla andare avanti perché se il gioco dovesse arrivare alle ore 7 che è l'ultimo turno e questi giocatori hanno finito tutto hanno il colpevole la stanza e l'arma mentre magari il giocatore bianco è sempre fermo allo step della stanza il gioco è perso questo è un gioco dove o si vince tutti insieme o si perde tutti insieme questo è un po' il suo punto del gioco vi faccio vedere la parte del fantasma all'inizio del turno dei giocatori quando saranno pescate come vi ricordo le carte sospettato la carta stanza e la carta arma del delitto sono tutte quante numerate vedete in cima e sono numerate anche quelle dei giocatori si farà dire dai giocatori i numeri delle varie carte e lui le prenderà quindi mettiamo caso i numeri siano che ne so 8, 25 e 44 prenderà ciascuna di queste carte e le disporrà sulle colonne dei colori di giocatori quindi colore giallo colonna gialla colore blu e colonna blu e colonna bianca in fondo quindi il fantasma dietro al suo schermo saprà sempre chi è il sospettato del giocatore blu qual è la stanza del giocatore blu e qual è l'arma del delito del giocatore blu quindi non dovrà nemmeno spiare al di là del tavolo perché magari si potrebbe far scoprire dando un'occhiata su una carta focalizzandosi qui ce l'avrà sempre sott'occhio allora lui a quel punto cosa dovrà fare manderà la visione scegliendo il turno magari del giocatore più anziano facciamo conto che è quello che inizia il giocatore giallo manderà le visioni prende dal suo mazzo pesca sette carte 4, 5, 6, 7 pesca sette carte visione e le guarda tutte quante le controlla tutte magari lui dice ok questo sembra essere un prestigiatore sembra essere una persona che fuma no comunque una bacchetta magica qualcosa del genere ha dei guanti gioca con le carte insomma è un prestigiatore vestito un po' strano sembra un po' in un mantello alla Dracula quindi lui dirà ok guardo queste sette carte visione e vedo quali sono più azzeccate per fargli capire al giocatore qual è il sospettato ora il fantasma può o guardare queste carte e giocarne una o anche tutte e sette perché deve aiutare appunto il giocatore a capire se non gli dovessero piacere potrà giocare uno dei corvi che è qua sopra scartandolo scarterà tutta la mano di queste sette carte e ne pescherà altre sette al momento che avrà dato la visione al giocatore gli avrà messo le carte in mano dovrà spostare il cursore qua giù in fondo per ricordarsi che appunto questo giocatore ha già agito e poi prenderà e perché è sempre il fantasma prenderà la clessidra la girerà partirà al tempo e allo schede della clessidra il giocatore giallo dovrà indovinare quale delle sei carte ha davanti a lui quale è il sospettato principale ed unico se dovesse beccare questo la partita andrà avanti se invece dovesse sbagliare magari scegliere il sospettato di un altro giocatore il gioco sarà fermo lui rimarrà in quello step lì e se andrà col giocatore successivo come vi ho fatto vedere appunto nella parte precedente arriva questo è tutto quanto ovviamente lo svolgimento del gioco arriva la parte finale ribadisco se tutti e tre i giocatori hanno trovato sospettato stanza ed arma vanno tutti e tre allo step finale e allo step finale verranno prese tutte queste carte ok e di queste carte dovrà essere scelto un gruppo un gruppo in particolare quindi magari la combinazione giusta potrebbe essere questa oppure potrebbe essere quest'altra verrà scelto un gruppo di carte e ci sarà un'altra visione finale il giocatore ripesca sette carte il fantasma però questa volta le gioca scoperte davanti a tutti riparte la clessidra dei due minuti e i giocatori vedendo appunto queste carte qui quelle carte visione finali dovranno capire qual è la strisciata finale se riusciranno a capire quale delle combinazioni giuste quale delle righe giuste avranno vinto la partita se no la partita sarà fallita ricordatevi che nella parte finale del gioco ma come in tutte le altre dovrete sempre ogni volta che tutti i giocatori avranno fatto la loro azione andare avanti di un'ora quando il gioco arriverà alle sette ci sarà l'ultimo turno e poi successivamente la partita sarà fallita persa quindi dovete risolvere il caso prima delle sette c'è un sistema anche di giocare token che è bellino è un incentivo praticamente sono token dei vari colori dei vari investigatori dei vari medium che servono per votare a favore o contro un giocatore per avere punti successivi ma quella è una modalità diciamo un pochino più avanzata che non vi consigliamo di usare all'inizio nelle prime partite comunque poi tanto la vedrete la troverete dettagliata sul regolamento di gioco che è piccolo questo è un gioco per tutti gli amanti di Dixit e di Cluedo ed è veramente velocissimo e bellino per passarci una serata andiamo alla conclusione finale questo ragazzi sommariamente è Mysterium Mysterium è un gioco molto interessante veloce immediato e quindi già per questo lo valuto assolutamente un titolo positivo ed è bellino perché è un gioco veloce che si spiega molto velocemente e che potete portare praticamente ovunque avete presente avete quel gruppo di amici che preferisce magari un gioco di guerra o di azione alla Zombicide però magari avete quel gruppo di amici che preferisce un gioco alla route dove invece bisogna fare qualcosa di più gestionale questo è il gioco invece che può entrare in tutti i salotti in tutte le case perché ci avete presente uno dei giochi più bellini che ha avvenuto più di tutti negli anni qual è? è Dixit perché Dixit riuscite a farlo piacere anche magari alla vostra famiglia che più che giocare a burraco dopo una vita non fa perché è un gioco veloce non c'è da pensare ma non c'è da capire troppe regole c'è da vedere le carte più o meno farsi un'idea e dare un verdetto quindi è il classico gioco che potete giocare ovunque e con chiunque quindi è un gioco fresco è un gioco veloce è un gioco immediato è un gioco per tutti ringrazio ovviamente l'Asmo d'Italia siete ragazzi veramente grandissimi numeri 1 per avercene fornito una copia per la recensione come sempre è un piacere lavorare con voi come valutazione finale al prodotto li do ma sì secondo me ci sta un bel 7 su 10 assolutamente meritatissimo perché forse la mia unica paura è un po' la longevità perché una volta a parte che le carte sono tante quindi penso che girino un po' le meccaniche le combinazioni però potrebbe capitare che poi più o meno le carte verranno un po' in mente perché anche sospettati poi non sono tantissimi quindi magari dopo tot tempo uno vedrà un ingranaggio e capirà sempre che l'ingranaggio magari o il colore giallo va su quel tipo di indagato comunque è un gioco che ha già delle espansioni quindi il gioco continuo è tutto ha la controparte digitale quindi la potete comprare anche su Steam o per telefonino perché ha la controparte ludica che la potete giocare è veramente poterato fatto bene e quindi potete giocarlo sia come board game che se no comprare la versione digitale vi ringrazio ancora una volta l'asmod Italia 7 su 10 meritato ragazzi in descrizione trovate tutti i nostri link nei social e soprattutto il link per acquistarlo Mysterium è un gioco divertente che costa poco ed è perfetto lo prendete lo portate in qualsiasi casa non è un gioco come magari U-Boat che ci devono essere defissati della seconda guerra mondiale o dei giochi cooperativi questo è un gioco come Dixit lo prendete lo portate e lo giocate quindi assolutamente sì da acquistare e insomma spero vi sia piaciuto fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate ciao ragazzi alla prossima ciao